La potenza del Signore sono le sue carezze. Chi non le conosce non conosce la dottrina cristiana. Quando trova la pecorella smarrita, Giuda gli dice amico. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno, quello della pecora smarrita. Il Signore viene come un giudice, ma un giudice pieno di tenerezza, che fa di tutto per salvarci e cerca ognuno di noi. Ci ama personalmente. Giuda non era un uomo soddisfatto, ha aggiunto il Papa, e scappava perché aveva una doppia vita. Ma alla fine è pentito, perché fino alla fine l'amore di Dio lavorava in quell'anima, anche nella disperazione. Anche noi lasciamoci consolare dal Signore e non dalle consolazioni che cerchiamo per fuggire dalla tortura interiore. Chi non conosce le carezze del Signore non sa la dottrina cristiana. Chi non si lascia carezzare dal Signore è perduto. E questo è il lieto annunzio, questa è la sincera esultanza che noi oggi vogliamo. Questa è la gioia, questa è la consolazione che cerchiamo. Che venga il Signore con la sua potenza, che sono le carezze, a trovarci, a salvarci come la peccola smarrita e a portarci nel grece della sua Chiesa. Che il Signore ci dia questa grazia. Aspettare il Natale con le nostre ferite, con i nostri peccati sinceramente riconosciuti. E aspettare la potenza di questo Dio che viene a consolarci, che viene con potere, ma il suo potere, la tenerezza, le carezze che sono nate dal suo cuore. Suo cuore è tanto buono che ha dato la vita per noi.